Benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi è dopo il live al Teatro Verdi di Salerno, Claudio Baglioni sarà in Calabria per la successiva data del tour 12 note solo bis. La sera di mercoledì 9 novembre il cantautore salirà sul palco del teatro Rendano di Cosenza. Da 50 anni tra i più amati, Claudio Baglioni è uno dei cantanti che ha saputo meglio interpretare i sentimenti degli italiani durante la sua lunga carriera, riempendo sempre stadi e palazzetti con decine di migliaia di persone. Un segno tangibile della sua arte eccezionale, che ha saputo sedimentare anche tra le nuove generazioni, con canzoni conosciute da adulti e bambini. È impossibile elencare ogni suo successo, ogni suo brano che ha raggiunto le vette delle classifiche. Dopo un lungo periodo di assenza, dovuto al covid ma non solo, Claudio Baglioni è tornato sul palco per il 12 note solo bis, un evento che arriva a qualche settimana di distanza dal 12 note solo, il tour estivo che ha portato Baglioni ad esibirsi in tutta Italia. Claudio Baglioni in concerto a Cosenza, L.A. Scaletta, in oltre 50 anni di carriera, Claudio Baglioni ha prodotto centinaia di canzoni e molti dei suoi brani hanno avuto un grande successo. Un vero cantante intergenerazionale, che ha scritto la storia della musica italiana. Per la scaletta del tour nei teatri lirici d'Italia 2022-2023, Claudio Baglioni ha unito i brani del suo ultimo lavoro con le canzoni più note e di successo del suo repertorio, il risultato è una scaletta variegata, che se da una parte è funzionale alla promozione del nuovo disco 12 note dall'altra accompagna gli spettatori in un viaggio musicale senza eguali. La scaletta non è stata resa ufficiale ma al netto di eventuali cambiamenti, l'ordine di uscita dei brani dovrebbe essere il seguente. Io sono qui, 12 note, acqua dalla luna, dagli il via, un nuovo giorno o un giorno nuovo. Gli anni più belli, un po' di più, amore in corso, come ti dirò, io non sono lì. Quante volte, mal d'amore, e adesso la pubblicità, io me ne andrei. Con tutto l'amore che posso, quanto ti voglio, fammi andar via, W l'Inghilterra. Poster. Uomini persi. Ninna nanna nanna ninna. Buona fortuna. Noi no. Questo piccolo grande amore, amore bello, e tu? Sabato pomeriggio, e tu come stai? Uomo di varie età, strada facendo. Avrai, mille giorni di te e di me. Via. La vita è adesso. I concerti del tour 12 note solo bis. Dopo il concerto di Cosenza la sera di mercoledì 9 novembre, Claudio Baglioni suonerà a Catanzaro e Reggio Calabria, per poi dirigersi in Sicilia e proseguire in quasi tutte le province italiane. In nessuna città il cantautore ha previsto di fare doppie date, almeno per il momento. La chiusura del tour sarà il 18 febbraio al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie per la visione.